Il salto nelle ultime tre, a mio giudizio, il salto l'ha fatto Bremer, cioè dal derby con Zapata in poi, è per noi determinante ovviamente che Bremer salga di livello, la pietra angolare, lo dico, magari mi sbaglio, la pietra angolare per ritrovare un certo tipo di difesa, avendo Allegri allenatore, è molto più Bremer di Danilo, deve continuare così, è quello che dico, non gli chiedo di fare il Thiago Silva, ma deve continuare così, tre partite di fila così era un po' che non le faceva Carlo, te lo garantisco.